capolavoro assoluto uomini e topi di lorenzo bartoli e massimo carnevale questa storia fantastica che fu pubblicata originariamente nel 97 la prima parte 98 la seconda ed è stata ripubblicata dalla cosmo nel 2020 in questo fermato bonellide una storia meravigliosa con disegni proprio magnifici una storia che ha tanto da insegnare questo uomo topo che riesce essere buono e molto più sensibile di tanti uomini cattivi che si vedono nella storia insomma un volume veramente da collezione wow veramente un viaggio proprio allucinante in una realtà un po' distopica ma bellissima veramente uno spettacolo questa storia di questo uomo topo thomas frears spettacolo davvero spettacolo uomini e topi carnevale bartoli